E bella a tutti ragazzi, qui per voi G-Pro 2010 e oggi siamo su Nati, su Non Stop. Ciao, come sempre nei video qui sono io. Non sempre, e comunque vi ricordo che dove... Oggi devo giustare un tavolo, che ce ne frega a noi. Comunque, come sempre potete saltare il caricamento, perché, sapete, ci metto un po' a caricare. Tanto, vero? Ahah. Un sacco, quindi potete anche saltarlo, come ho detto che vi ho detto, saltarlo e cominciare il gioco. Aspettate. Aspettate. Ecco qui. Comunque... Comunque... Installatelo. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il re Corvo e abbiamo sbloccato il mondo 4, deserto arido. Ma prima... Controllo... Devo... Voglio controllare... Devo contro... Voglio controllare un po'... Del... Alcune cose. Però io vi invito comunque a lasciare un mi piace, barra un non mi piace... A... 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 anonym... A... che bellissimo gioco dopo aver finito tutto il gioco e ad iscrivervi al canale quindi iniziamo deserto orido 1 si comincia! vai! vai! e comunque nel questo episodio abbiamo sbloccato una bellissima nuova abilità ma è una di quelle di fuoco che io potesto vai! ok ok verdastre litte e siamo arrivati ecco fatto ar prima di andare ecco 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 Questo è il 51. Perfetto, andiamo. Il posto. Il posto. Zomboit. Voi. Il vi nato. 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 E. Ho finito. Allora. Allora, provate subito di che cosa si tratta. E' angi... aspettate che non vorrei... Nare la coda. Vabbè, questa me la tengo. Forte! Questi me li tengo. Vai! 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 Oi! Vi! Vai! Vi! 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 No ragazzi questo non me lo consigliate, non lo consigliate mai, mai e poi mai, mai consigliarmi le cose machine, le cose machine, soprattutto le femmine, mai consigliarmi quel fattoso, oh il boss, mamma mia, eliminati, ma degli zombie che prendo un po' che dovrebbe lasciare, ma un'ascia, che figo, ok al posto dei pugni mi prendo quell'ascia, allora vediamo Ops, dovevo soltanto fare una cosa E il capello Allora, ecco qui, è l'ascia Avevamo l'ascia Un'altra ascia Ma il mio pregaglismo Il martello no, è scarso Penso che prenderà questa spada, è troppo potente Si adice molto a questi, si manano gli stivali Dovrebbe essere tipo qualcosa di così Ma è veramente perfetto Forse potrei togliere quella lama Forse si dice molto di più Voi che ne dite ragazzi? Mettete like se questo è perfetto Ragazzi Voglio proprio sapere che cosa ne pensate È veramente perfetto Ma tengo un corno di zebu Per chi non lo sapesse Lo zebu È una specie di to Non trovo che Va bene Va bene Vabbè Una volta l'ho visto Ma non so praticamente che cos'è Comunque quello è un corno Scrivetemi sotto nei commenti Se è il vestito perfetto per un esploratore E io vi metterò il cuoricino nel commento E ora siamo al prossimo livello Deserto arido 3 Entra E siamo pronti Piano 1 Vai Sto facendo girare i barili Mamma mia Qua 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 Ecco qui Vai Mamma mia Sono un po' strani questi miei menti Pure quelli che lanciano le bombe sono molto strani E adesso possiamo al boss Si chiama Pesci Elite Vai Mamma mia Sono bruttissimi Guardate che denti Sono veramente a schifo E noi abbiamo finito Un po' strani Livello 12 Bene Un talento Due nuovi talenti Un po' strani 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 E oni Chiama Un po' strani 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 Vediamo Ok, ecco qui Questo dovrebbe andare Molto bello Anzi, scrivetemi sotto nei commenti Che ne pensate dei miei modelli Sono curiosa di sapere Che cosa ne pensate Quindi è meglio continuare Molto potente Beh, il pollo anche quello Mi ha aiuto a combattere, mamma mia Bamba Ora Combatte con il boss Zombo Elite Sono giganteschi Va Fatto Ho finito Ho terminato le chiavi Ragazzi Aspettate Fatemi controllare Fino a dove stiamo 24 minuti Bene Ho un'idea Farò soltanto Questo piano E poi Chiudo l'episodio qua Mamma mia Mamma mia È un pesce È un pesce ubriaco Fatto Bene Io allora penso di salutarvi qui ragazzi Quindi io vi invito sempre A lasciare un mi piace Barro un non mi piace A consigliarmi dei commenti Dei giochi che potremo fare insieme E ad iscrivermi al canale Qui c'è per il 2010 Grazie per avermi visto E noi ci vediamo Come sempre Alla prossima Ciao